Buongiorno, sono Eugenio Saltarelli di tradingnavigator.it e investimentinvincentio.it con il mio solito software da me realizzato il Cycos Navigator facciamo un'analisi ciclica sull'Eurostox e il Fuzzinib sono le ore 10.15 del 4 di settembre allora questo è il ciclo trimestrale che sappiamo essere partito il 7 di maggio sarebbe lungo da spiegare insomma ricordatevi che l'analisi ciclica non si fa prendendo dei minimi importanti ma bisogna fare analisi multiciclica quindi può essere anche un minimo che sembra secondario la partenza di una fase ciclica importante è fondamentale l'analisi multiciclica cioè la struttura tempi prezzi questo è fondamentale comandano i tempi non i prezzi se sposate l'analisi ciclica diversamente se volete andare a prendere solo i minimi importanti per far partire dei cicli state facendo un'analisi tecnica classica utilizzando anche l'analisi ciclica ma chi sposa l'analisi ciclica boccia questa ipotesi quindi ci possono essere i minimi rilevanti anche non isolati anche superiore dei minimi procedenti detto questo questo ciclo trimestrale il minimo avv appuntito del 24 di del 24 di agosto potrebbe essere la partenza di una nuova fase ciclica non abbiamo ancora conferme i tempi erano giusti un po più lunghi perché è arrivato un po più di tre mesi mesi e mezzo circa anche se la struttura mi diceva che poteva il ribasso finire a fine agosto prima settembre così non sembra vediamo perché non abbiamo ancora conferme vedete che l'indicatore del ciclo l'indicatore ciclico che io uso che è una velocità ciclica opportunamente tarata è ancora sotto l'asse di equilibrio anche il ciclo inferiore che io ipotizzo che sia un ciclo mensile alle volte c'è un ciclo a metà intermestrale più spesso un ciclo mensile cioè un ciclo che dura circa un meso solare diciamo 21 22 fino a 24 giorni di boss aperta anche questo non è sopra l'asse dello zero il ciclo inferiore che in realtà se c'è un ciclo mensile diventa un ciclo un po' ibrido è solo da poco andato sopra l'asse dello zero ma non è sufficiente il ciclo settimanale vedete a sua volta è ancora attualmente sotto l'asse dello zero l'asse di equilibrio e quindi non c'è abbastanza forza per poter dire che è partito un ciclo termestrale sembra partito un ciclo mensile chiaro se è partito un ciclo mensile è molto probabile che sia partito un ciclo termestrale ma anche sul ciclo mensile qualche dubbio ce l'abbiamo per le cose che avevo detto quindi a livello di prezzi a livello di prezzi dov'è che non bastano i prezzi certamente vorrei vedere vorrei vedere prezzi almeno sopra questo livello qui diciamo 3.350 allora incominciamo a ragionare e soprattutto il ciclo stimonale che fanno i massimi quindi ci sarebbe il secondo ciclo stimonale che fanno i massimi successivi e diversamente se si va verso diciamo sotto 3.100 3.050 e allora qui tutta la struttura cede e per cui siamo ancora in una possibilità di ulteriore ribasso cioè tornare sotto 3.000 e anche livello inferiore do meno probabilità in questo momento questa ipotesi do più probabilità a quello di una nuova struttura ciclica ma non abbiamo conferme quindi siamo in una fase libica un po' di incertezza il ciclo settimanale ve lo dico ciclo settimanale e vedete già un po' si sta indebolendo perché si sta indebolendo si va verso la sua metà che probabilmente sarà forse intorno al di pomeriggio quindi un minimo centrale poi un eventuale ripresa di un giorno e poi nuovo ribasso ma tutte queste forze che ci possono essere sono difficili a definire se non si risolve la questione se è partito in ciclo trimestrale o no perché un ciclo trimestrale nuovo spinge tutti i cicli sottostanti verso l'alto quindi anche il ciclo settimanale quindi cosa vuol dire che potrebbe fare un massimo superiore qui se non è partito un ciclo trimestrale e questa parte qua farà dei massimi inferiori o addirittura tutta questa seconda metà la fa in debolezza ecco perché è importante a fare un'analisi multicipica ecco perché quindi importante comunque è anche il minimo di partenza di questo ciclo settimanale che è intorno a leggiamola tra 1150 in realtà tra 1140 se vedete le massime delongazioni queste sono 5 minuti quindi attenzione a questa situazione passiamo ora al fuzzimib non do indicazioni di trading alle volte le do per l'intraday lasciamo perdere una fase di incertezza quindi situazione anche per il trading non è facile per l'intraday adesso carichiamo vedete anche qui l'indicatore del ciclo trimestrale sul fuzzimib non ha superato l'assa di equilibrio ciclo mensile pure ciclo bisettimanale ammesso che ci sia sì il ciclo settimanale sì cosa vuol dire vuol dire che le forze cicliche cioè le forze cicliche cosa sono le forze di un mercato tolta la tendenza sottostante fondamentale quindi la struttura ciclica è più forte sul mercato italiano è decisamente più forte cioè il mercato italiano basta meno per poter dimostrare che siamo in una fase ciclica anche se onestamente se non me lo conferma anche l'euro stocks faccio fatica a vedere un mercato italiano che va per conto suo con l'euro stocks invece che fa altro col dax si con l'euro stocks meno qual è un punto critico per il nostro mercato beh 20 2005 sopra il 2005 sempre tre ore sopra meglio con la chiusura di giornata allora forse siamo in una fase ciclica trimestrale e anche mensile che già qualche conferma tra l'altro ieri sul nostro mercato abbiamo fatto un massimo superiore cosa che non c'è stato sui altri mercati qual è il punto critico invece al ribasso il punto critico al ribasso è 21.000 prima poi 20.500 21.000 primo step di indebolimento 20.500 secondo step allora lì è una struttura ciclica che ti può cedere si può tornare sotto 20.000 do sempre meno probabilità a questa ipotesi comunque per il momento se fosse partita una nuova fase ciclica non ha particolare forza quindi anche se fosse partita un nuovo ciclo trimestrale faccio fatica a vedere un nuovo ciclo trimestrale che si avvicini ai massimi precedenti quelli di luglio e più precedenti ancora per gli altri mercati comunque già quelli di luglio sono dei massimi di riviero ecco siamo un ciclo molto veloce sull'S&P non ve lo dire non lo sto analizzare però la situazione ancora più veloce bene vi saluto vi ricordo il mio sito investimenti vincenti vi ricordo l'option forum che verrà tenuto il 3 ottobre evento gratuito a mendrigio scrivetevi al mio sito e poi sarò l'unico relatore trader presente a borsa italiana il 9 settembre tutta la mattinata si parla di opzioni c'è anche un market maker quindi andate a vedere sul mio sito sempre come scriversi noi ci vediamo come al solito a un prossimo appuntamento con l'analisi ciclica con il cycle di vieto